Ehi, Bonnie! Sentite qua! Ehi, Rubisqueak! Sono io, la vostra Ruby! Date il benvenuto agli Electric Blue! Sei guarita! Visto, ti serviva solo un po' di riposo. E un po' di tè. E una magica zuppa. E anche della buona compagnia. Già, mi spiace essere stata una paziente difficile. Voi ce l'avete messa davvero tutta per intrattenermi, tenermi sempre occupata e a farmi tornare in salute. Ma quello che mi serviva davvero era sapere che i miei amici ci tengono a me. Ma se l'avessi saputo, non avrei fatto tutte quelle tisane. Siamo felici che tu sia guarita. Ma devi andare da Melodie e Criniere per il live con gli Electric Blue. Eh già, sei in ritardo. Sapete cosa? Credo che sarebbe giusto farlo qui, con i miei amici. E grazie a voi, se ora posso andare al live dopo tutto. Sai che ti dico? Ti aiutiamo!